che va avanti questa situazione di dialogo su vari artisti e stasera dialoghiamo su due Giovanni Bartolena e Oscar Ghiglia. Giovanni Bartolena nasce a Livorno nel 1869 e muore nel 1942. È il nipote del famoso Cesare Bartolena che era un pittore importante legato alla macchia ma anche legato alla pittura di genere storico, un pittore notevole, veramente. Alcuni pinti suoi esistono in alcuni musei dell'esorgimento di Cesare Bartolena e vi posso dire un pittore interessante, purtroppo un poco studiato. Giovanni Bartolena inizia la sua vita da ragazzo in una famiglia benestante, vive da signorino, tutto a posto, tranquillo, poi c'è una caduta economica certamente nella famiglia, lui si trova in una situazione difficile e inizia a essere uno fuori dalla famiglia, sempre di più. Inizia però già giovanotto a andare a scuola Giovanni Fattori alle belle arti di Firenze. Fattori vede in questo ragazzo delle qualità, però è molto distratto Giovanni Fattori, vuole vivere una vita un po' spenserata e Fattori gli fa una critica, dice no guarda che qui hai le qualità, devi lavorare, devi disegnare, devi dipingere, non devi stare a pensare ad altro. Piano piano Giovanni Fattori inizia, dopo una crisi veramente forte, a diventare un personaggio che scopre che l'unico modo per poter vivere è fare il pittore. Fa il pittore in una città come Livorno, in un momento, è un pittore che in fin di conti vede la Livorno del fine ottocento, vede la Livorno del primo novecento. Chi è in realtà? Diventa un personaggio particolare. Inizia a dipingere le nature morte e i scorci e i paesaggi di varie zone fuori di Livorno e della città di Livorno. Come dipinge? Va anche fuori di Livorno, va a dipingere a Firenze, va a dipingere in varie località vicine. Ora vedrete com'è e vi spiego una cosa particolare. È un pittore che con la macchina non ha quasi più niente a che vedere. Trova delle sintesi molto estreme certe volte, certe volte anche un po' leggermente ruvide, però ha il senso del colore, ha il senso della forma. Ora vedrete in questo primo dipinto com'è. Abbiamo il Ponte Vecchio a Firenze, da via Guicciardini, olio sul cartone, centrimetri 26,5 x 15,5, collezione privata. È ricondividere lo schermo. Non vediamo. Non vediamo niente. Un attimo, un attimo. Perché ancora non mi ci sono posizionata. Un attimo. Arriva. Arriva tutto. Vedete adesso? Sì, sì, sì. Vedete? Sì, sì. Ecco, questo è dipinto, olio sul cartone, di Ponte Vecchio a Firenze, da via Guicciardini, 1911, centimetri 26,5 x 15,5, collezione privata. Lui andava e dipingeva davvero questi ruoli. Vedete che la pittura, in questo caso, è proprio estrema. Pochi colori, un taglio prospettico lungo e colorazioni che coprono questo cartone preparato, quanto basta. È una pittura leggermente ruvida in certe situazioni, soprattutto nei paesaggi, che poi però migliorerà nel tempo. Guardate, è un pittore che sorprende per questo senso fra il segno e coprire il segno col colore, fra il senso di dare quanto basta l'effetto e chiudere lì, senza andare poi nei particolari più di tanto, tipo alcuni personaggini che vediamo lungo questa strada. Il problema qual è? Che lui tutto quello che fa lo fa in un modo sintetico, in tempi molto brevi, perché mi ha raccontato chi l'ha conosciuto, dipingeva in tempi molto brevi, non era un pittore che stava lì a lavorare a ore su un dipinto o a giornate. In tempi brevi risolveva la situazione, in una seduta, massimo due, massimo tre, secondo la grandezza del dipinto, quando aveva la fortuna di avere delle tele, perché soltanto dipingeva su cartoni oppure su tavole. Le tele di Bartolomeo sono molto rare, perché non si poteva permettere più di tanto. Il problema però, vedete, ha qualcosa che non ha più il senso della macchia. Semmai al limite qualcosina nel cielo, però è qualcosa che ti sorprende per la sua essenza. È essenziale. Lui non sta a vedere tanto, non cura, diciamo, il soggetto. Prende, lo cattura e lo rende forma in tempi brevi e con un segno subito che deve dare il senso del luogo. È un dipinto, fra parentesi, vi posso dire che davvero è interessante perché è un Bartolomeo che non ha ancora quello smalto di colori che vedrete fra poco che l'ha reso famoso, però funziona. Certamente, che era abituato a certe finezze dei macchiaioli, qui non le vede per niente e vede un pittore un po' rubido e non è abituato. I primi tempi non fu facile per lui entrare in contatto, però, anche con collezionisti, però, diciamo che riuscì piano piano a emergere. Importante è capire che inizia tutto un percorso particolarmente variegato. Tematiche, quelle che l'hanno reso molto famose, sono natura morte in particolar modo. Questo va detto. Quindi, pensate come può iniziare un pittore. Siamo nel 1911. Andiamo avanti. E questo è il partito. Piazza di Montenero, a Livorno. Olio su tavola, centimetri 32x36,5, collezione privata nel 1915. Vedete, questo qui è un luogo dove c'è il suo pantuario. E la parte sinistra, la parte destra, invece c'è tutto il famedio che raccoglie il spoglio dei vari personaggi importanti della città di Livorno, nati a Livorno, tra quali c'erano anche i fattori. Questo è un luogo che chi non lo conosce fa un effetto stranissimo. Tu arrivi a questa scalinata, questa esplanade di piazza, e ti trovi in un luogo che veramente fa effetto. Da bambino ci sono tante volte facevano un effetto stranissimo. Perché vedevi qualcosa che era come entrare in un'altra dimensione. Dopo essere stato col famoso trenino, che poi era, non era, era come si chiamavano, che portava al famedio. La funicolare. La funicolare. Sì, cioè, da bambino sembrava che fosse un trenino. E la funicolare famosa faceva un effetto strano arrivarci per un bambino piccolo come ero io, tre anni, quattro. E devo dire, sinceramente, era interessante vederlo. C'era il fotografo sempre lì, alla scalinata, che chiedeva se voleva una foto. Mi ricordo sempre questo fotografo. È un luogo che Bartolena dipinge sempre con questa un po', sempre ancora una certa rubidezza, però già imposta in modo più di respiro questo luogo, questo paesaggio, questa architettura. È interessante come lui fa una pittura che sembrerebbe, ma non è, perché alcuni hanno un po' di tema, è un po' naif. No, no, lui di naif ho come un bel niente. E' semmai una pittura fortemente di impressione. Quello che basta di mettere, lo mette. Non mette niente di più. E tutto inizia a muoversi attraverso questi piccoli personaggi che sono lì e frequentano questo luogo. Lui entra in realtà e fa entrare in questo luogo che non tutti conoscono, che è veramente un luogo che ha una malia interessante. Proprio si sente un tipo di situazione mistica per molti aspetti. e anche di luogo molto frequentato, perché la domenica spesso, quando andavi o a sabato, trovai varie persone che andavano. Era una scoperta, almeno per me. Poi leggendo tutto quello che c'era, poi ci sono stati grandi, ci sono stati vari aspetti. Ci sono stati ad avere tutti l'ex voto, perché c'è una collezione d'ex voto in una delle più importanti d'Italia e penso di Europa. Quindi, ecco, è un dipinto sempre così. Ora vedete come muta la situazione. Ecco, questi sono i frutti di quercetino, olio sul cartone, 21,5 e 21,5. Collezione privata. Questa è del 17, due anni dopo. Ecco, pensate, Bartolana e la natura morte è così. Inizia ad avere una colorazione più smaltata. Illumina queste pere, gli dà questa luce, inizia il fico. Poi c'è questo aspetto di queste noce. C'è tutto un mondo che lui crea con una pittura fatta dal vero, pochi elementi, ma le riscalda con una materia pittorica densa, molto luminosa, molto preziosa. Per esempio, i bianchi nel tempo diventeranno quasi preziosi come l'avorio, le sue luci bianche. E' un pittore che dipinge anche con dimensioni veramente grandi. Però ecco, qui inizia a colpire l'interesse di alcuni collezionisti. E a Livorno iniziarono a collezionarlo. In questi anni, più o meno, diciamo dopo il 10-11, iniziano a scoprire che esiste questo signore che dipinge questo uomo con baffetti, simpatico, un po' chiuso, fuma il sigaro, che parla poco, però che quando viene considerato si apre un po', inizia ad avere amicizie giuste, perché un uomo è rimasto solo, qua per molti aspetti. E ecco interessante vedere come la sua pittura si riscalda di toni, diventa materica, diventa estremamente forte, plastica, ma in un modo pittorico che, per esempio, in Francia uno che gli può stare accanto è Champ Sautin, che anche lui non fa una natura di morte, ha questo tipo di tensione. Si parla di un artista conosciuto in tutto il mondo. Eppure, insomma, sono lontani ma sono molto vicini anche se non ci sono mai incontrati. Guardate come un pittore con nulla può creare una situazione emozionale. Ecco, guardate un pittore emozionale, dipingeva tutto quello e trovava. Andava, persino, nei ristoranti a trovare i gusci delle aragoste e poi le dipingeva. E le natura di morte, mi chiesa se potrebbe permettere di mangiarle. Allora, quei gusci ci facevano le natura di morte. Facevano questo guscio dell'aragoste oppure l'upicante. Era un personaggio incredibile, che ha vissuto una vita da film, come dicevo prima. E' stato un pittore interessante in questi suoi temati di natura di morte, che non è più una natura di morte fino a se stessa, ma diventa un racconto. Anche al limite del possibile, no? Poche cose, però amate e dipinte con grande saggezza, con velocità. Era un pittore che a Livorno nessuno aveva visto una pittura del genere. Ma non solo a Livorno, ma in Italia nessuno aveva visto una pittura del genere. Ci sarà un pittore solo che, guarda caso, poi vi racconterò chi e come. Andiamo avanti. Guardate questa natura morta qua. Qui siamo nel 20. Natura morta con bottiglia, tazze e garofani. Olio su tavola, 42,5 per il 26. Con il seno privato siamo nel 20. Nel 1920 Bartolena è già un personaggio ormai collezionato da vari collezionisti. E' diventato il pittore della natura morta. E' importante questo, molto, molto, molto importante. Negli anni 20 avrà veramente la sua importanza perché farà una mostra a Milano. Farà una mostra a Milano nel 1925, ma si, 26, preparata, chiamata fra il 25. Però la mostra si fa nel 26, poi la fa un'altra nel 27. E la prima del 26 sarà Carlo Carrà a presentarlo e rimarrà stupito da queste natura morti. che gli piaceranno talmente tanto che ne acquisterà una che terrà tutta la vita nella camera dal letto. Perché piace a Milano questo pittore? Perché Milano è una città che sta avendo artisti importanti del Novecento che stanno valutando nuovi percorsi. Un po' la Salfatti quando in realtà negli anni 20 e 30 inizia a far capire che questi italiani possono entrare in un rapporto europeo e crea questo movimento che non è movimento, ma prende dei pittori, li mette assieme e fa capire il meglio che esiste in Italia. Il Novecentismo, questo problema, possiamo metterlo dentro a questo rapporto. Anche se in realtà la Salfatti non ce lo mette, è quello che sappiamo. Però ci può stare, al di là da Salfatti non l'abbiamo in su. Guardate com'è rigoroso qui, com'è interessante l'idea di questa tazza col bordo azzurro che è bianca, smaltata di bianco con questi carofani, e questa bottiglia la cui ombra sembra quasi l'ombra nemmeno di una bottiglia, di un personaggio. La bottiglia diventa quasi un personaggio. Se pensate a Morandi, Morandi e le sue bottiglie non sono bottiglie, sono personaggi. E qui c'è questo concetto. L'ombra è quasi incredibile fatta in quel modo lì. Sembra un'altra bottiglia, eppure non è un'altra bottiglia. Guardate come Bartolena, con la sua fantasia pittorica, crea... Guardate il bianco di questi fiori. C'è questo carofano bianco che è fatto, dal vero, con una pennellata grassa, materica, incredibile. Lui riusciva a fare delle pennellate grassi che funzionavano e smaltavano tutto, che poi col tempo, purtroppo, hanno sciupato il bianco spesso e volentieri, perché ci davano tanto di quella vernice di Damar che il bianco diventava un po' avorio. E purtroppo l'hanno sciupato alcune volte, i suoi dipinti davano di tanta vernice di Damar, che sembrava che impreziosisce, invece non impreziosisceva lui, ma creava altri problemi. Però questo è un dipinto di grande livello. Ecco, qui Bartolena fa capire la qualità. Diceva uno dei suoi collezionisti che quando arrivava a dipingere da questo signore, che era il signor Ughi, le famose serie di caffè Ughi, pasticcerie Ughi, Bartolena non aveva almeno il cavalletto. Allora lui legava il dipinto alla sedia, alla spalle della sedia. Metteva i colori e iniziava a dipingere. E poi faceva al signor Ughi. Guardi, eh, non le butti via, perché io credo in quello che faccio. E ci ho raccontato proprio che sono Ughi, questo aneddoto, che non è un aneddoto. Ughi aveva una bella collezione, aveva un bel numero di dipinti di Bartolena. In modo natura e morte, ma anche dipinti di paesaggio e di punti della città di Livorno. Guardate la preziosità di come il colore in Bartolena diventa così messo in un modo anche azzardato, dove rischia molto il pittore. Invece lui riesce a guidare il colore in un modo inaspettato, per una pittura così di getto, così... che certe volte sembra quasi cruda, ma invece non ha crudezze. Ha semmai queste preziosità quasi primigeni. Un pittore che non ha paura proprio prende lì e non ci rimette più le mani sopra. Quindi va considerato questo in pittura. Perché alcuni poi ci mettono le mani sopra e sciupano tutto. Lui era così, lo prendevi così. O l'accettavo e non l'accettavo. Questo è molto importante. Questo è un dipinto molto importante. Andiamo a vedere il prossimo. Questo è il Pino sul mare. Siamo nel 25, 5 anni dopo quello che abbiamo visto. Olio su tavola, 30,5 e 43,5. La collezione privata è del 25. Ecco, poi quando faceva il paesaggio alcune volte aveva di queste sensazioni. Cos'è che colpisce? Prima di tutto la semplicità estrema di come ha trattato il tema. Poco. Poco. Il colore è poco ma è steso e tirato al massimo. Perché dia il massimo di se stesso. Questo Pino è qualcosa di veramente espressionista. Si direbbe un Pino espressionista a quanto questo pittore da questo senso dove non c'è niente. C'è soltanto una natura ma estremamente tesa. Un modo un po' drammatico, lo devo dire sinceramente, un modo un po' drammatico. Bartolena ha questi momenti drammatici. Piccoli drammi. Certo, faceva delle contadine rincorse da Tori. Però di questi dipinti ci è rimasto nemmeno uno. Ce l'ha raccontato Mario Borgiotti, grande collezionista, pittore e grande esperto del Marchiagliolo, che aveva visto nello studio di Bartolena. Si sa che le facevano, non se ne è trovato nemmeno uno per ora. Però guardate anche qui. Perché non ci ha messo una figurina, potrebbe dire qualcuno. Perché qui proprio è l'estremo. È quasi come vedere la ribecciata dei fattori che è un dipinto estremo. Quei fattori della ribecciata famosa. Però nella ribecciata dei fattori si descrive tutto quello che è il senso. Che il vento muove, che il rapporto muove, che il mare muove. Qui invece c'è un senso drammatico ma non si muove nulla. È quasi tutto ormai quasi piantato come fossero sculture. Nel senso che non si muove però è drammatico. Lui riusciva a fare queste drammatizzazioni che anche Borgiotti certe volte rimaneva sorpreso da questo. Erano entrati in buoni rapporti. Borgiotti l'aiutava e comprava i dipinti. Guardate che questo è un capolavoro. Perché noi la pittura crediamo che sia tutta fatta sempre di icone di un certo tipo. E questa, anche se non c'è icona figurativa di esseri umani, ci dice tutto di una sensibilità di un pittore. Estremizzare vuol dire certe volte andare al di là e capire in una tematica qualcosa che altri non sanno capire, non sanno catturare. Anche in primo piano questa oscura ronda, che non sai cos'è, però colpisce perché si lega a quella ultima che è già in fronte al mare. E poi si lega al pino che vedete è drammatizzato al massimo questo oscuro, questo piccolo albero. E' poetica questa. E' quasi una poesia ingarettiana questa qui, da quanto è sintetica. Fa effetto. Devo dire che qualche volta Bartolena mi scongogge per questi effetti. Andiamo avanti. Questa è la Natura Morta del 30. Natura Morta, funghi, limoni, olio su tavola, 40 per 50, azione privata. Era del famoso collezionista livornese che viveva a Milano, l'Alberto Vitali, che ha collezionato i migliori artisti che c'erano dell'800-900. Ecco, guardate questo fondo, no? Questo fondo è prezioso, che gli ha dato una colorazione fra un rosso e un arancio. Li ha fusi quasi insieme e ha staccato il verde che sta dentro a questo vaso. E guardate, il resto è tutto collegato a quello che avete. C'è i funghi, ma ci sono anche i datteri oltre i funghi. Poi ci sono i limoni. Poi faceva i limoni, questo ve lo posso dire, dal vero fa un effetto strano. Prendeva il giallo, faceva tutto il giallo il limone e poi metteva il bianco a forza di plasticizzare il bianco. Diventava una materia spessa che veramente dava senso ancora di più di questo limone che doveva uscire fuori dal rapporto. Deveva essere piatto. E poi guardate questi fiori. Fa un effetto incredibile lui. Ci mette i garofali. Ma è veramente qualcosa, e non solo i garofali. Ma guardate com'è interessante vedere questo fondo poi che in basso è ocra gialla. Ocra gialla che illumina tutto il resto. Quindi sapeva anche che era delle situazioni estreme, perché è un dipinto estremamente espressionista. Però in Italia nessuno aveva capito questo. L'hanno capito dopo tanti anni che hanno studiato che questo pittore aveva veramente fatto un salto e andato al di là di quello che era la macchia e ha creato una pittura del Novecento che poi alcuni hanno studiato e hanno capito che questo qua aveva visto lontano. Aveva visto lontano. E tra questi c'è proprio il Tosi, il famoso pittore Arturo Tosi, che va a vedere la mostra di Milano del 25 e rimane colpito da questa natura morta. E non per niente in alcuni dipinti, insomma, ce le vedi che l'ha capito. E' importante questo perché Bartolai sta postato... La parola post-macchiaiolo ha punito tanti pittori. Perché si è battuti, la post-macchiaiolo, vengono la macchiaiolo e finisce la missione. No, no, no. Questi sono pittori del Novecento a piano. Non devono più niente alla macchia. Non devono più niente a questo. Pur che avevano amato e capito la grande pittura di fattori e non solo. Perché? Perché avevano capito il loro tempo. L'artista deve essere il proprio tempo. Se no, diventa un problema. E' vero, non è prezioso, non è un pittore elegante come tanti abbiamo visto. Ma l'eleganza di Bartolena sta nella sua verificità. Entra subito in contatto con quello che l'occhio vede. E lo ridà, come lo sente, senza avere paura, senza avere timori. E' collezionato da persone che hanno capito che questo uomo dice qualcosa che nessuno aveva mai detto prima di lui. Purtroppo c'è avuto anni prima di capire anche a Livorno e non solo che questo era un artista importante. E anche oggi alcuni non lo ritengono tale. Lo ritengono uno e faceva questo. Un po' così. Sbagliato questo concetto. Era uno lo faceva per ovvio. Era un pittore degno di questo nome. La prima monografia su di lui la fa Pistellini. Questo qui era un collezionista suo, fa questa piccola monografia preziosa, simpaticissima. Era un uomo poi riservato, nel senso che la sua vita era veramente difficile, molto difficile. Però guardate cosa ci dava. Ci dava veramente questi dipinti, secondo me, di grande, grande, di grande livello. Una volta si lamentò, lo trovarono per la strada, tutto abbacchiato e disse cosa hai fatto? Mi manca i soldi per i colori. Non disse che manca i soldi per mangiare, che certe volte davvero era un problema anche quello. E questo lo dice tanto di uno che l'arte la sentiva. Se non si fa, non si risponde. Andiamo avanti. Ora c'è Oscar Ghiglia. Oscar Ghiglia. Oscar Ghiglia nasce a Livolo nel 1876 e muore a Fidelis nel 1945. Chi è Oscar Ghiglia? Oscar Ghiglia è, diciamo, uno dei grandi protagonisti della pittura. A Venezia, nella Biennale del 1901, espone il suo autoritratto. Si vede questo giovane, baffuto, che ha in mano una tavolozza con i pennelli e guarda, tutti ve lo guardano. Ebbe un successo talmente grande che il fattore gli dice l'ho visto dipinto, sei bravo, sei bravo. E quando diceva Fattore 1 che era bravo, perché lo era veramente. Chi è Oscar Ghiglia? Oscar Ghiglia è il grande pittore prezioso della nuova figurazione. Una figurazione che prima di lui non esiste. è un pittore. Guardate questo dipinto qua. Questa è la moglie, Isa, che si guarda allo specchio. Guardatelo un attimo. Guardate questo dipinto un attimo, perché merita. Abbiamo questo oro su tela, 52x63 e 1905-1906. Lui è già un pittore di cui si parla dopo la Biennale come un pittore che può dare molto. guardate la sintesi. Questa donna si guarda allo specchio. I colori sono pochi, ma la cornice che chiude lo specchio incornisce il gesto della donna che si sta mettendo a posto i capelli. Guardate il viso. È una pittura fortemente plastica, ma anche molto, molto studiata. è un pittore dove nessun gesto è fatto per caso, ma tutto studia una situazione del comportamento dell'immagine. L'immagine si comporta in un certo modo e lui riesce a catturarla. È una lettura allo specchio che non ti aspetti con questi colori. e fa un effetto, il postiglio dal vero, che è veramente potente. Guy è un pittore figurativo che salda la figura al senso della pennellata. Il pennello in lui crea proprio plasma tutto quello che fa e non dà niente per scontato. Tutto è costruito con una sensibilità e una potenza plastica veramente incredibile da un uomo che in fin di conti era un autodidatta per quanti aspetti. Questo è che ci colpisce. Ghi, fattori perché, dice, sei bravo, ma tu riesci a fare questo. Sei fatto tutto da solo, come molti aspetti. La potenza di quest'uomo è costruirsi una propria personalità che diventerà di una qualità e vedrete dei dipinti incredibili che ti rimangono negli occhi perché era un costruttore di immagini, ma l'immagine è costruita sempre che funziona. Non c'è nulla che non serva a queste immagini. C'è l'essenziale, ma dipinto in un modo che non si... Guardate questa mano cos'è. Eppure... Ma sapete che ci sono dei fotografi che hanno fatto foto come queste nella fotografia dopo tanti anni dopo? Magari nemmeno che nella pittura erano già andate queste situazioni qua. per dire, vent'anni dopo, per dire, trent'anni dopo. Perché questo poteva essere una fotografia, eppure non è nata una fotografia, è nata da un dipinto davvero. Pensate... La foto, quando fotografa, puoi fare tante foto, puoi sceglierele e va bene. Chi ha fatto questo e c'è questo? Non è che ne ha fatti tanti e poi è uscito fuori questo. Andiamo avanti. Guardate questo. Questa è la moglie che legge. Legge e scrive. Perché donna che scrive ho detto anche la donna che legge. Olio su tela, 65 e 46, che siamo arrivati al 1908. Allo specchio del 1905 e del 1906. Questo è il 1908. Cosa c'è di interessante? Guardate i colori scelti. Abbiamo tutte le terre, quindi la porta, la sedia, il tavolo. La parete è leggermente un colore che deve essere stato una tela che veniva messa come carta d'apparati, perché usavano a quei tempi anche le tele grigie, celestrine, anche marroncine, che erano come carta d'apparati, però leggermente ruvida. Veniva incollata veramente. Non so perché l'ho vista alcune case queste cose. Guardate lei. Questa è Isa, la moglie di Oscar Ghia, che scrive e legge. Guardate cosa ha di interessante. Il biancore di lei, di questo Charles, la mano che regge il biancore, i libri. Lei che scrive sul bianco e ha appoggiato lo scritto a un libro. Guardate la divisa nei capelli, l'incarnato che è sensibile, è un rosato leggermente con delle ocre dentro. E guardate il calamaio. Tutto questo si muove dentro un aspetto sensibile di luogo, luce e luogo. Cos'è che illumina il biancore di questi oggetti? Eppure la luce si diffonde, come se questo biancore diffondesse il tutto. Come riesce a far questo? Perché è una pittura sintetica al massimo. Guardate come riesce a darci il senso della gonna che si ritaglia nello spazio del pavimento. È una pittura che, come la vedi, capisci tutto quello che lui ti vuol far vedere. Non c'è niente di più. Niente che non serva. Tutto quello che c'è deve servire a dare quello che vuole lui. Un'immagine totalmente ben costruita dove non c'è nulla che non serve sia soltanto decorativo. È molto forte questo impatto pittorico perché subito entri nel tema, nel luogo, nel personaggio espresso. Lui lo dice che la sua pittura è così e quindi è importante capire come lui ti fa capire. Io voglio che la pittura oggi percorra questo per arrivare ad essere una pittura fortemente di impianto. non una pittura così, insomma, soltanto dove si raggiunge la luce, si raggiunge certi aspetti, le ombre, però poi il tutto è debole. Qui lui vuole invece essere fortemente plastico, ma in un modo originale, con poche situazioni, e come queste silhouette si muovono e diventano vive. diventano plasticizzazione della forma. È molto importante questo. Ora vedremo questo qua. Questa è la tavola imbandita, al 1908. Oro su terra, 55 per 79, collezione privata. Ecco, questo è Oscar Ghiglia. Guarda che questa natura morta è un racconto pittorico. come viene costruita. Le lucentezze, le luminescenze, i vetri, la tavola, la decorazione, il rapporto degli oggetti che ognuno ha una sua luce, ha una sua profondità, ha un suo volume. Il fondale, che è qualcosa che guarda caso si lega anche al colore dei fiori. Eppure tutto è leggibile, niente si nasconde o influenza l'altro confondendolo. È una pittura di una saldezza che ebbe tanto successo. E fu subito collezionata dai grandi collezionisti, come Sforni, che aveva una collezione di ripinti di Oscar Ghiglia bellissima. Guardate cos'è questo ripinto qua. Guardatelo bene, perché poi farò vedere alla fine un pittore che gli avvicino molto, che è Felice Casorati. Sono gli unici due che in Italia dipingono con questo senso della pittura. La pittura salda, costruita con lo smalto del colore, con il senso puntuale. Guardate questi fiori come sono dipinti. Eppure la preziosità è fatta dalle pennellate che si formano, che creano la forma. Insomma, però ogni petalo funziona. Non c'è mai una pittura così veloce, fino a se stessa. C'è un rigore. Ecco, questi due pittori sono stati dei grandi artisti di figura e di Natura Morta. Sia lui che Felice Casorati. E si sono mai incontrati, ma sono talmente vicini che quasi... E questo, pensate nel 1908. Il Frò lo vedeva sulla morte dei Casorati molti anni dopo. E direte, ma guarda qua, si sono mai incontrati come si somigliano. Si somigliano perché hanno il rigore della pittura nella testa, nella mente, nella mano, nell'esecuzione. Questo è di una bellezza, permettetemi, incredibile. È di una preziosità incredibile. È un capolavoro. Dal vero fa un effetto, posso dire, di quello che non te lo scoglie. È veramente... Era un grande pittore. Era un grande pittore, un grande artista questo uomo qua. Potrebbe essere un uomo di grande cultura. Lui è quello che nel 1913 scrive la prima grande monografia su Giovanni Fattori. Fa lui la presentazione, Oscar Ghia, con uno scritto che se lo trovate, della Sef Editori, 1913, tutto sponsorizzato da Sfoni, questo grande collezionista, ci hanno scritto su Fattori che tutt'oggi dice tanto, come pochi hanno detto su Fattori. Oscar Ghia era un personaggio di grande livello, anche culturale. Andiamo avanti. Abbiamo... Eh, questa. È la donna che si pettina, o detta anche la camicia bianca, è del 1909. Pensate un po'. Com'è? I bianchi qui ci danno la bellezza. Lo sapete come si chiama il bianco di queste veste di questa donna? Si chiama super bianco. Veramente. È chiamato così perché è un bianco talmente luminoso di se stesso. È talmente lavorato in un modo tale che sfida gli altri bianchi. E qui di bianchi ce ne sono più di uno. Guardate cosa riesce a creare questo uomo. la colata di capelli, no? Guardate il senso dell'incarnato, il profilo che si sta sui capelli, tutto quello che c'è è dall'asciugamano al lavabo, il bianco. Guardate il colore aranciato di questo punto d'appoggio del tavolo. è questo colore di fondo che è un colore prezioso ma fine. Guardate la forza plastica di questo pittore. Questo è uno di quei dipinti di Oscar Ghiglia che secondo me fanno la fortuna di questo artista. perché un artista riesce a concepire questo a questi livelli qua e vuol dire essere dei grandi pittori. Perché qui come sbagli finisce tutto. Lui non c'è un momento in cui erra. È preciso, è puntuale. Le luci azzurre, il senso dell'arancio, il senso della gonna leggermente amaranto. Guardate, guardate com'è tutto composto. La gestualità di questo corpo, guardate com'è raccolto. E dà un senso monumentale, se mi permettete, veramente a tutto. Però è talmente stupendo, talmente eccezionale. Pensate che questo dipinto per anni non era stato considerato. Poi un grosso collezionista ha fatto capire che è un capolavoro. E più fortuna l'ha fatto uscire fuori dal buio dei tempi. Perché per alcuni anni, dopo la morte di Oscar Ghia, non ci fu una grande corsa, diciamo, a collezionarlo, a farlo conoscere. Poi piano piano si sono accorti che era un grande artista, veramente. Purtroppo dopo la morte ci fu uno dei problemi. Durante la prossima guerra mondiale, poi c'era stato chi ci sarà dopo la guerra mondiale. Però questo è un grande capolavoro suo. Ma ce ne sono altri, vedete che sintesi riesce a fare questo uomo. Non in Italia avremo soltanto a Casonati, non riuscirà a fare questo. Certamente con tematiche diverse. I nudi, anche Oscar Ghia ha fatto dei nudi, ma di nudi, complessità di personaggi in stanze, situazioni diversificate con molti personaggi. Oscar Ghia non fa dipinti con molti personaggi. Di solito sono sempre pochi, uno, due, ma non di più. Però si somigliano perché hanno questo grande impatto. Creano una nuova pittura figurativa, tutti e due. In Francia lo farà Valaton, ma Valaton è diverso. È più iperreale, leggermente più freddo. Invece qui non c'è freddezza. Guardate questo senso che di apertura dei bianchi dà una luce, dà una vitalità. Andiamo avanti. Guardate questo. Queste sono le sorelle Gonnelli di Firenze. Gonnelli è famosa Firenze, esiste tuttora. Era un antiquario librario, collezionista. La sua galleria ospitò opere di artisti perché faceva anche le mostre. Esiste ancora la libreria Gonnelli. E sono le figlie del signor Gonnelli. Al piano. Olio su tela, 100 per 79, collezione privata. Siamo nel 110, 11. Ecco. Avete visto? Vi ricordate Ida che scrive, no? Qui guardate come è cambiato, come si evolve sempre di più. Il piano, i bianchi della lettura del testo, della musica, dello spartito, il bianco del pianoforte e dei tasti, il bianco dei fiori e guardate il resto come diventa caldo, no? Questa ocra leggera, questo colore rosso inglese della porta e della cornice, il pavimento che ha questo colore di terra leggermente grossastra ma sbiadita quasi. la seduta, guarda, che poi è di velluto verde. Ma loro due, le due sorelle che il nero le fonde tutte insieme al piano. Guardate che effetto fa. eppure si rilevano tutte e due. Si rilevano e si fondano, si fondano e si rilevano. La mano della sorella in piedi fa sì che si rilevi la figura della sorella seduta, le mani della sorella che suona, l'altra che sta a guardare. Tutto diventa un senso di equilibrio, ma talmente studiato che funziona. Fatto dal vero, non è che questo è stato fatto da una foto. Pensate, riusciva a costruire questi dipinti di una qualità che ti rimane. Dice, non c'è una cosa che è fuori corso. Non c'è una pennellata che dice, ma sai, un pochino, non funziona. Guardate, è prezioso questo. Questo è un quadro prezioso per tutta una storia. perché il Gonnelli stimava molto, lo scarghia, lo collezionava. Era tutto un mondo. Era collezionato da persone culturalmente alte. Diciamolo tra la pittura scarghia e la pittura, come si dice, nell'ambiente da palati fini. Perché collezionare lui voleva dire sapere, capire la pittura quando è pittura. Lo collezionava soltanto quelli che sapevano vedere la qualità. Altri non l'hanno snobbato perché gli piaceva più la pittura, più così, più d'effetto. Questa invece non è una pittura di effetto. È una pittura veramente salda dove non c'è niente di effetto. Andiamo avanti. Guardate questa alzata d'arancia e poi mi dite a voi se questo qui non è un grande artista. Questa, questa alzata d'arancia. Olio su terra, 66, 912, collezione privata. Può stare accanto a un dipinto di Morano senza problemi. Senza problemi. Perché c'è un silenzio. In queste arange. In questo momento di pochi toni però ti creano questa situazione. Con quest'ombra che avvolge tutto. Questo panno dove sono ospitate le arange. Guardate. E due stanno a terra. Ma guardate che effetto che fa. La spazialità tagliata in questo modo. Con questa ocra luminosa gialla e il biancore grigiastro e questa ombra che raccoglie. È raccolta da una parte dal biancore del panno che raccoglie l'arancia. L'altra è l'ombra che raccoglie il resto che è a terra. Tra le due arange. Guardate. E l'oggetto. Guardate che dipingere. Se questo io lo capo volgo uguale. Funziona uguale. Ossia. È un pittore che rimane sorpreso da come crea degli equilibri che anche se sembrano estremi. Funzionano perché hanno una loro qualità di costruzione. Che è difficilissimo fare dal vero a questi livelli qua. E non le pochi riesce a fare questo. La pittura italiana non sono. Insieme a Felice Casorati. E anche se lo sognano. Nemmeno il Donghi che tanto piaceva all'onghi. Il Donghi riesce a fare queste cose qua. Perché è freddo. Anche se è un bravo pittore. Il Donghi in alcuni ripinti però è freddo. Guardate il calore. La luce. Riusciva a dare la luce. Che mia moglie è innamorata della sua morte. Ci sono le calle. I fiori delle calle. Faceva il biancore di queste calle. Che è qualcosa di incredibile. Gli dava una vitalità. Un senso a questi fiori. Che è stato l'unico a farli diventare dei fiori preziosi. A noi piacciono le calle. Perché hanno. Mi piacciono anche a me. Perché hanno una forma che mi entusiasma. Però il biancore che riesce a dare Oscar Ghina le calle. Se mi capita. Purtroppo non sono riuscito a trovare. Perché nemmeno uno. Se no ce lo mettevo. Vi posso dire che riusciva a lavorare il senso della luce. Mettendola nel colore. Il colore è la luce. Come se aveva questo dono. Che è raro un pittore. Spesso i pittori per dare la luce devono lavorare tanto. E spesso non riescono a dare. Invece lui bastava toccarsi. Un colore. E subito. Come lo plasmava col pennello. Ci tirava fuori la luce. Questo guardate. È un capolavoro veramente. Dice tanto della pittura. Che avremo dopo di lui. Andiamo avanti. Questo è il figlio di Oscar Ghina. Paolo Ghina. Anch'esso pittore. Che diventerà un bravo ritrattista a livello nazionale e internazionale. Che sta giocando col suo modellino di barca a vela. Questo dipinto è stato fatto qui a Castiglioncello. Perché? Deve sapere che Oscar Ghina viene qui a Castiglioncello. Sarà collezionato dal signor Romulo Monti il padrone del Miramare. Che lo stimerà. Lo collezionerà Oscar Ghina e l'aiuterà moltissimo. Oscar Ghina era un personaggio particolarissimo. Non era un personaggio facile. Aveva delle situazioni altre volte incredibili. Perché una volta fece un dipinto. Non gli piaceva. Lo tirò. Tirò la tela su un pino lì. Piscino all'albergo del Miramare. E il giorno dopo il signor Romulo Monti gli disse. Ma quel dipinto è finito. Mi piaceva. E lo so. E sono andato io con la scala a prenderlo. Non devi fare queste cose. Perché sei bravo. Non vanno buttati tutti i finti sui pini. E qui c'è questo figlio. Paolo Ghina. Io l'ho conosciuto. Vi posso dire che era un bravo pittore. Purtroppo oggi dimenticato completamente. Come anche il fratello Valentino. Ma Valentino somigliava troppo il padre. Tanto che alcuni falsi dipinti di Oscar Ghina sono fatti da Valentino e poi filmati con una firma falsa di Oscar Ghina. Mentre Paolo era un bravissimo riflettista. E questo è un dipinto simpatico. Guardate ma ha fatto il figlio. che sta tutto lì a guardare come va questo modellino. La finestra aperta. La luce che entra. Illumina tutta la situazione. I biancore delle vele. La luce che prende la mano di questo ragazzino. E il colletto che esce fuori dalla maglia. Guardate il volto costruito con una pittura. Anche lì ben coordinata. Non è pittura leziosa. Pochi tocchi ma guardate come crea subito i capelli. Tutto funziona ma diventa pittoricamente saldo. Non ci sono i garbi della situazione di fare il capello per capello. Perché certe volte non funziona. Funziona per una certa pittura ma non funziona per un'altra. Qui capello per capello. L'opera d'iguale però lo vede nella sua massa. È un dipinto. Guardate questo questo modo di fare le ombre. Sarà rivisto in tanta pittura del novecentismo. Lui l'ha fatta molti anni prima. Di quando non la faceva nessuno. È un artista che ha illuminato tanti. Tanti non ho avuto ammetterlo che che veniva da lui. Da quello che faceva questo grande artista che era Oscar Ghia. Godetelo perché questo è un capo lavoro. Andiamo avanti. Ora abbiamo questa natura morta che è stampa giapponese. Olio sul cartone 45 per il 34,8 mio 124. Collezione privata. Questo è un vaso di grass di quelli famosi che il colore blu gocciola. Era proprio un tipo di vaso che veniva fatto e ebbe un grande successo. veniva comprato molto in quegli anni diciamo. È una prezioso oggetto che lui aveva fra tanti oggetti usato per fare natura e morte. Ci mette tre rose. Due rosse e una bianca. E dietro c'è una stampa giapponese. Guardate com'è interessante questo connubio. L'eleganza giapponese dei grandi artisti giapponesi nel segno. E legata all'eleganza di questi fiori e a questo vaso che le contiene. è messo su un punto di appoggio, è un colore di terra leggermente marron, con invece un'oca chiara di sotto. E guardate l'ombre di tutto, delle rose di questo vaso, vanno a proiettarsi sopra parte dell'incisione. Il resto invece dell'incisione si vede tutta. Ma è interessante come viene sfruttato il cartone. Vedete che le luci che escono fuori dall'incisione sono il cartone nudo. Il fattore usava per esempio dipendere sulle tavole e si vedeva il legno che usciva fuori in certi momenti da pittura. Qui invece esce fuori il cartone. Lo sapere è che persino Felice Casorati faceva queste cose, ma moltissimi anni dopo. Aveva capito che lavorando su certi cartoni usciva fuori questa luce strana che in qualche caso aiutava un pochino a dare un senso magico di luce, inaspettato. E' un dipinto prezioso questo. Lui ne ha due dipinti legati al mondo asiatico. Questo e un altro che è sull'immagine cinese, della cultura cinese. Era veramente un artista che amava molto vedere tutto quello che capitava nel mondo. Aveva una cultura enorme, soprattutto era uno che aveva contatto con tanto di quello che era la cultura internazionale. E' un pittore prezioso, un pittore che in vita ha avuto tanti momenti importanti, poi al momento si è ritirato per qualche anno, poi è ritornato a dipingere, però la sua pittura è una pittura che ha fatto secondo me a scuola e che va considerato uno dei pittori importanti nella storia pittura italiana, europea e non solo. E ora vedrete una cosa, ve la faccio vedere. Guardate questo dipinto di Felice Casorati, nata a Novara nel 1883, morta a Torino nel 1963. Ah, quello che aveva fatto Casorati. Questo è del 21. Quello che fa lui, il famoso dipinto di Bartolena, la tavola imbandita, è del 1908. Oscar Ghia dipinge come dipingerà nel 21 Casorati e si somigliano perché hanno le stesse preziosità eppure non si sono mai incontrati. Hanno le stesse preziosità, hanno gli stessi sensi di come la forma deve essere letta subito, non ci deve essere frantendimenti fra quello che è la forma e come è stata riportata a chi la sta guardando. Ci sono queste piantine, questo dipinto si chiama, le piantine, olio su tavola 91x64 del 21. Guardate come in tutti e due c'è questo aspetto qua. Lui ci mette questa scultura di volto bianco in marmo e questa donna che è seduta sulla destra. Ma guardate come siccome veramente due artisti che non si sono mai incontrati, mai conosciuti, avevano lo stesso senso di capire che la forma, se deve essere letta, deve essere letta in modo puntuale ma dandogli una vitalità nuova. E tutti e due danno una vitalità nuova alla pittura figurativa che stava scadendo in qualcosa che era un manierismo. Perché la macchia purtroppo poi diventerà un manierismo veramente basso, anche come qualità. Qui invece abbiamo una qualità altissima. I post macchiaioli alcuni non sono altro che dei ripetitori, dei grandi macchiaioli fatti più o meno bene, ma non riescono a dare qualcosa di più. Invece questa è una pittura che apre altre frontiere. Diceva bene fattori, dovete fare qualcosa che urtino i vecchi, perché se no non serve. Lui ce lo diceva, diceva a me fatevele che faccio io. Guardate questi due grandi che per caso non si sono mai conosciuti come sono stati illuminanti per la pittura figurativa, anche per altri artisti che poi più o meno non l'hanno voluto dire che venivano da questi due, ma tanto nella loro pittura si vedeva che risentivano di questo. Sono stati due grandi giganti da pittura. Guardate che anche Casorati per anni è stato considerato un pittore da non considerare più di tanto. Invece dopo ha vinto lui, perché è stato considerato uno dei più grandi pittori che abbiamo avuto nel mondo della pittura di quell'epoca, dove c'era un Morandi, dove c'era un Carrà e altri, dove c'era un De Chirico e altri. È molto importante, la pittura italiana è stata una pittura importante. La Sarfatti in parte l'aveva capito, ma in parte invece non riesce ad andare al di là di certi aspetti. Però intanto qualcosa va capito. E c'è voluto tanti anni per sapere che avevamo questi grandi artisti che hanno dato il là a una figurazione che prima non esisteva così. Voi confrontatela con chi volete e vi rendete conto che sono veramente dei grandi maestri. Non so che effetto vi ha fatto questo tipo di dialogo su questi due, però vi dico che sia Bartolena che Oscar Ghia sono due protagonisti importanti. Certamente ognuno con una personalità diversa. Uno più estremo, Bartolena, che vive distinto, però riesce a capire il colore e lo rende prezioso, e Oscar Ghia, che è un pittore di un impianto di costruzione pittorica, di saldezza pittorica, di sintesi, veramente che rimani e dici ma come questo riusciva dal vero a creare questa situazione. Questo vuol dire essere dei grandi pittori, perché lì come sbagli è finito il dipinto. Invece lui tutti li ricostruisce in un modo dal vero, come se avesse una lente dove subito vede come, come e cosa e come deve stare. Nessun oggetto deve essere messo lì così, deve essere impreziosito quanto basta uno accanto all'altro e uno vive in connubio dell'altro, con una pittura di una saldezza, una profondità come quella di Casorati. Vi ringrazio tutti. Avete domande? Avete domande? Fatele perché io sono qua. però, frontale quindi, però è un pittore. Eccolo qua, eccolo qua. E' questo qua. Ce ne è due versioni. Questa è quella, devo dire, minore. Ce n'è una ancora più preziosa di quella, che è una collezione privata di Roma, se mi ricordo bene. Ma è l'unica, perché poi lui non ha mai fatto. Faceva queste contadine, però non c'è rimasto nulla, non si sa nemmeno come fosse. Lo racconta Mario Borgioti di questi dipinti con le contadine, con i tori, con Pagnabella, però non c'è rimasto nulla. E purtroppo non è rimasto nemmeno un dipinto di questo tipo di tematica un po' particolare. E' un pittore, Bartolena, non facile, perché è un pittore che ti... non ti aspetti uno che dipinge anche così in modo diretto, sembra quasi che non abbia un senso quello che fa, che sia un pittore di getto, però finisce lì. Invece non è così. Anche lui ha qualcosa che sa costruire in un modo, soprattutto nel senso del colore, della plasticità del colore. Mentre Oscar Ghiglia è un pittore di grandissimo livello. Ma non si può fare un paragone, perché sarebbe ingiusto. Sono due pittori diversi, di qualità diverse, di rapporto diverso. Ci sono domande? Qualcuno ha qualche domanda di quelle particolarmente... che provocano? Cosa devo dire? Io sono qua, aspetto domande che provocano. Senso buono.